Anche se si è dichiarato a Sophie, Alessandro non riesce a stare lontano da un'altra concorrente del grande fratello Vip. La sera del 30 dicembre, infatti, Basciano e Soleil sono stati pizzicati dalle telecamere mentre si abbracciavano calorosamente, l'influencer. In particolare si è lasciata andare a frasi ammagliatrici nei confronti del giovane, al quale ha confidato di essere attratta dal suo sorriso perché le ricorda quello di un ex fidanzato. Alessandro ha chiarito che la vippona che preferisce è Sophie, ma stando a ciò che è successo nella casa la notte scorsa, potrebbe non aver detto tutta la verità. Il bel modello ha flirtato a lungo con Soleil, la donna con la quale condivide anche la camera da letto sin da quando ha esordito al grande fratello Vip. I due si sono guardati per tutta la sera, finché il giovane si è esposto abbracciando calorosamente l'italo-americana davanti a tutti. Non andrò mai contro di te. Se vuoi, possiamo continuare a dormire insieme e mettiamo delle barriere. Sono il tuo compagno, un alleato, ha detto Alessandro all'influencer l'altra sera. Soleil ha spiazzato gli spettatori del grande fratello Vip quando si è rivolta ad Alessandro dicendogli, mi mandi in tilt quando sorridi. Mi fai effetto perché mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato. L'influencer si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. Parole che alcuni fan hanno interpretato come un'ammissione velata di interesse nei confronti del bel basciano. Quando il modello le si è avvicinato per ballare una famosa canzone di Blanco, Sorge ha fatto fatica a trattenersi dall'accarezzargli il viso e dall'abbracciarlo con trasporto. Allontaniamoci altrimenti sono guai, qui finisce che ci odiano tutti. Ha detto la ragazza visibilmente in imbarazzo davanti al sorriso e alla prestanza fisica del compagno d'avventura.